eccoci qua il paradiso del pescatore ragazzi guardate guardate qua le trote andiamo a vedere questa vannotteria vediamo un po' qua c'è gente che lavora bene guardate qua guarda che roba tutti i pescettini speriamo che vi danno il premio la medaglia di cartone è meglio la medaglia di cartone che niente la medaglia del foco va bene anche la medaglia del foco una qualche roba guarda e adesso queste qua si vanno a liberare del fiume gratis gratis tutto gratis qua a babbo morto e anzi magari a babbo morto qui tutto gratis qui non ci sono la gente lo fa per passione anzi mi sa che ci rimettono anche dei soldi di tasca loro tante volte normale normale e quindi bisogna dire qualcosa a questa gente cosa gli diciamo a queste persone che possono aiutarci se vogliono credo cacciate un po' di soldi mandate qualche cosa quando prendete un pesce di questi qua sarebbe buono non so anche passare di qui e dire te ho portato un sacco di mangime ho fatto qualche cosa no non sarebbe neanche male come idea vediamo un po' oh